In effetti, le tragedie sono scritte in endecasillabi, ma il teatro è un genere più avvicinabile dal grande pubblico. La drammatizzazione sulla scena, vedere gli avvenimenti davanti ai propri occhi, rende tutto più semplice e comprensibile. Anche se il nostro paese non aveva conosciuto il Siglo d'Oro del teatro spagnolo o l'esperienza alla Molière di quello francese. Grazie a tutti.